Senatore Tosato, a favore degli enti locali che cosa state chiedendo in Commissione per quanto riguarda la legge di stabilità? Noi stiamo chiedendo di limitare i tagli, perché i tagli agli enti locali significano due cose. O che questi non possano più garantire i servizi minimi e essenziali ai cittadini, e cioè trasporto pubblico, sanità e servizi sociali, o significa che saranno costretti ad aumentare la pressione fiscale, con uno scaricabarile tra Stato, Regioni e Comuni, che ormai è diventato inaccettabile. Tanto più inaccettabile perché comunque in questa legge finanziaria, a fronte di 7 miliardi di tagli agli enti locali e solo di un miliardo di tagli alla spesa pubblica generale dello Stato, ci sono ancora degli stanziamenti che noi riteniamo ingiusti da poter tagliare, non solo i 110 milioni a favore di Roma Capitale, ma anche ad esempio i 40 a favore della sanità del Molise, come se le altre regioni si trovassero in una situazione anaglia di difficoltà, i 100 milioni ulteriori all'ufficio delle entrate o addirittura 850 milioni in più per le missioni all'estero. Un tema sul quale è ormai evidente che l'Italia non può più giocare un ruolo così importante, avendo delle difficoltà interne ormai insostenibili. A questo si sommano i 200 milioni iniziali per le politiche di accoglienza degli immigrati. Ecco, ci sembra che il governo non abbia le idee chiare su quali siano le vere priorità.